Oggi è scomparso un amico, un grande amico, un amico insostituibile, una persona cara, ma soprattutto una colonna, una colonna del cinema italiano e non solo italiano, del cinema contemporaneo, europeo, mondiale. Ho sentito Dio questo nome, Lecca. Ti ricordi te il certo Lecca, un sardo che faceva Laura Varsini? Me lo ricordo perché lui è regista via Manfredogna e questa, però lui mi pare che abitava qui dentro. Sì, sì, abitavo là, poi noi abitavamo in Prensisi, insomma, basta via qua, ma se è il primo o il secondo, se è il 49, non lo so. Dopodiché, se quello dico io, è morto perché lavoravo in età, era capo, insomma, dei comparsi, poi chiamava i cineastri, ma stavano dentro al cinema. Certo che me lo ricordo. Un ragazzo straordinario, di un'acutezza unica, di una profondità rara, manifestava fin da allora un'attitudine alla solitudine, all'isolamento. E' stato attore, regista, fotografo, in una parola cineasta, ma anche filosofo ed artista figurativo. Ha conosciuto gli onori delle cronache del successo e le indigenze della miseria e dell'indifferenza. Dopo una vita costellata di premi e riconoscimenti, Simone Lecca ha passato gli ultimi anni della sua esistenza in questo appartamento della periferia romana, nel più completo abbandono. Non doveva morire così. Abbandonato da tutti, solo. Questo è uno schifo. E' difficile dare l'idea della stravaganza e delle peculiarità della sua complessa personalità. Jean-Paul Sartre, che lo ha conosciuto bene, ci ha lasciato una descrizione divenuta ormai classica. Del suo aspetto fisico ricorderò la somiglianza del viso con quello di Voltaire, la fronte alta, gli occhi nobili, il naso sottile e la scarsa statura. L'aspetto severo, grave, spesso addirittura hieratico, veniva poi tradito da un carattere temperato, mite, sempre incline al compromesso e al motto di spirito. Circondato da un'aura di mistero, è stato sempre restio a concedere interviste o a rilasciare dichiarazioni. Penso che forse la cosa migliore sia proprio di andare a leggere quello che all'epoca scrivevo. E non eravamo in tanti all'epoca, a parlare bene di questo regista di cui oggi naturalmente tutti fanno a gara per il Celsano. La sua straordinaria capacità di creare storie e situazioni dal nulla, assieme ad una personalità, ad un carisma non comune, gli consentirono di imporsi all'attenzione dell'opinione pubblica con una velocità per molti versi sorprendente. I suoi esordi cinematografici sconfinano nella leggenda. C'è chi sostiene che gli sia il marito scomparso del personaggio interpretato da Rebecca Wilson in Il conquistatore del mondo di Roger Corman. Secondo altre fonti avrebbe interpretato una piccola parte nel film dell'amico Citto Maselli, la dama di picche, a cui ha, in ogni caso, collaborato alla stesura della sceneggiatura. Simone Lecca era uno dei più grandi registi invisibili, uno dei 6-7 grandi registi invisibili e di cinema invisibile al mondo. I cineasti che non esistono hanno appunto la grandezza, l'audacia, finché non si manifestano, di porci oltre e di fronte. Io credo che il grande cinema sia davvero quello che non si vede. Anche il grandissimo cinema è quello che si fa dimenticare tanto a ciò che hanno, che si fa desiderare e desiderare di essere previsto. Il colmo del cineasta invisibile è quello di essere davvero invisibile. Questo ci dice, al massimo della sua intensità, il cinema di Simone Lecca. Non ci resta che almeno sospettare di essere il nel film. Ciascuno decida se pensa di essere il film o semplicemente nel film. Buona visione. Buona visione. All'Ecca è stato spesso imputato di essere un uomo che era revolta, condiscende all'azione, e che vive dedito ai puri piaceri dello spirito. Il fatto che sia cresciuto nella desolata Sardegna dello scorso secolo ha certamente contribuito ad accrescere questa sua disposizione alla solitudine. Simone ha trascorso l'infanzia, più che tra le fusioni materne consuete agli altri bambini, studiando i grandi testi della tradizione patristica o in lunghe e faticose passeggiate nei rigoliosi boschi del Gennargento, perduto in vaghe fantasticherie e dimentico del mondo. Non dobbiamo dimenticare che l'Ecca nasce soprattutto come autore teatrale. In quegli anni frequentava molto Thaddeus Cantor, che sicuramente ha lasciato su di lui un'impronta indelebile. Ricordo che quando uscì dal medico, Lecca stava lavorando a un'improbabile riduzione teatrale del capolavoro del filosofo tedesco Emanuel Kant, la critica della ragion pura, riletto in chiave cassidica. L'interpretazione di Lecca si basava in particolare sull'immagine della teshuva, del ritorno, secondo quella particolarissima sensibilità a Yiddish, di cui in seguito Simone divenne così raffinato interprete. Il risultato della critica, che mescolava o voleva mescolare Humor Yiddish e avanguardia teatrale, dal punto di vista dell'esito fu disastroso, fu un vero fiasco. Ma tutto sommato per me è stata un'esperienza utile, molto utile. Penso che lavorare con Simone non sia stato facile. Tra tutte le persone con cui ho lavorato, sicuramente è stato quello dotato di più professionalità, di un rigore e di una dedizione assolutamente rari per un regista. Il nostro obiettivo in Sara, dunque, era quello di creare un personaggio femminile a tutto tondo, con tutte le inquitudini e le angosce tipiche della società contemporanea. Credo che il motivo per cui il pubblico abbia tributato un così grande successo a Sara sia semplicemente perché abbiamo fatto un buon lavoro. Tutto qui. Beh, credo ormai che con questo film Sara, la donna di Provenza, sia chiaro a tutti come il percorso del Lecca sia arrivato alla sua completezza, alla sua piena maturità. In Sara, la donna di Provenza, Lecca mostra come un'esperienza deprimente e devitalizzante, come quella di vedere diventare in pochi minuti una verde vallata montana, un groviglio di cemento ed asfalto, possa risolversi in un esercizio di alta poesia. Come direbbe Simone, io credo veramente non ci sia altro da dire. Con Sara, Lecca si guadagna i favori delle grandi case di produzione. Le proposte di lavoro si susseguono senza soluzione di continuità. Ma, all'improvviso, qualcosa in questo delicato meccanismo si inceppa. Il successo sembra privarlo di motivazioni. Qualcuno sostiene che si sia montato la testa. Certamente Simone non è più lo stesso. Anche il cinema non lo interessa più. Penso che non sia esatto dire che il cinema non lo interessasse più. Simone, in quel momento, aveva bisogno di un contatto più diretto con la realtà. Il cinema, inteso come semplice narrazione di storie, non gli era più sufficiente. Passo senz'altro la parola a Simone Lecca. Sente il bisogno di schierarsi, di prendere posizione, di rinunciare al suo proverbiale isolamento per intraprendere la via di una critica più diretta ed esplicita della società contemporanea. Una critica che assume i contorni di una vera e propria denuncia politica. No, no, no. No, no. Grazie a tutti. 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 alla sua vocazione tecnologico-sperimentalista, portando alle estreme conseguenze il discorso sull'alienazione e la spersonalizzazione del mondo contemporaneo iniziato con Sara, rappresentando in un farneticante furore barocco un mondo completamente reificato, privo di qualsiasi umanità, e ormai definitivamente schiacciato dalla barbarie e dalle blandizie dell'industria culturale. Mi voleva parlare? Sì, la ringrazio di avermi ricevuto. Volevo parlarle di una cosa molto riservata. Mi voleva parlare? Sì, la ringrazio di avermi ricevuto. Mi dica, mi dica. Sì, la ringrazio di avermi ricevuto. Ah, ed è venuto fin qui per dirmi questo? Sì, la ringrazio di avermi... Mi voleva parlare? Sì, la ringrazio di avermi... Mi dica, mi dica. Sì, la ringrazio... Sì, la ringrazio di avermi... Mi voleva parlare? Mi dica, mi dica. Sì, la ringrazio di avermi ricevuto. Gli straordinari effetti speciali utilizzati nel film avevano suscitato un nuvolo di sospetti sulla provenienza del denaro. Alla fine si scoprì che Lecca era riuscito ad accedere a dei fondi pubblici grazie alla mediazione di Marina Liverani, sinologa di fama internazionale e consulente del Ministero delle Finanze, che in quel periodo era diventata la sua amante. Ero innamorata. Lo scandalo non tardò a scoppiare. Guarda, di quel film si è detto ogni cosa. Stupidaggini, soltanto stupidaggini. Spinto dalla necessità, ma anche da una serie incredibilmente lunga di circostanze favorevoli, nell'ultima parte della sua carriera, Lecca si cimenta con la pubblicità con esiti spesso disastrosi. Esempio emblematico in questo senso è la campagna pubblicitaria per una nota casa automobilistica che evidenzia la definitiva impasse creativa del regista Sardo. Luce, l'auto veloce In quegli stessi anni, Lecca tenta anche la strada della fiction televisiva, dirigendo dei brevi short umoristici per delle emittenti locali. Ma anche qui le cose non vanno bene. La risposta del pubblico è tiepida. Questi lavori appaiono deboli e eccessivamente didascalici. E il tracollo? Lecca perde la fiducia delle poche persone che gli gravitano ancora attorno. Non riuscirà più a dirigere un film. È sempre più isolato. Decide di ritirarsi a vita privata con la compagna e Marina e la giovane figlia Yoko. Ma anche loro dopo qualche tempo decidono di lasciarlo. Simone è diventato intrattabile, non riesce più a relazionarsi con nessuno. Vuole stare da solo. Si richiude in una solitudine inquieta ed insofferente. Simone si comportava in maniera sempre più strana. C'erano dei momenti in cui era assolutamente insopportabile. Non è mai stato molto presente nella mia vita. Quando la mamma decise che dovevamo andarcene, qui molto dispiaciuta di lasciar papà da solo. Io avrei voluto rimanere con lui. Mi telefono al giorno di Natale. Desiderava incontrarmi subito. Voleva che gli costruissi una casa con 39 stanze, un ampio giardino e un gazebo. E quando gli chiesi il perché le stanze dovessero essere proprio 39, imbarbettò qualcosa a proposito di una setta esoterica e di un allevamento di cinghiali. Provocatore, paradossale, spiritograffiante, iconoclasta, misogino, fustigatore di costumi, moralista, poeta. Sono soltanto alcuni degli epiteti che hanno accompagnato senza tregua il suo nome. Nessuno ha capito che Lecca ha fatto di tutto per essere disconosciuto. Sembrava come se tutto gli fosse dovuto. Un uomo, ma soprattutto un'opera, che ha fatto continuamente discutere, ha interrogato le coscienze, ha stimolato la riflessione. Eppure oggi pochi sanno chi è Simone Lecca e quale apporto ha dato alla cultura contemporanea. Lecca è un po' la metafora della cultura in Italia, che si prende, si usa, quanto serve e si getta. Questo percorso dalla polvere all'altare, poi alla polvere, che è tipico dei grandi, che ha toccato anche Lecca, speriamo che d'ora in avanti anche questo suo esempio, questo suo esempio di grandezza posto, ma scoperta dopo, serva anche per il futuro. Lo certo è che ci ha lasciato una bella eredità di cinema e di vita che non deve assolutamente andare dispersa. Simone Lecca attraversò la vita con incauta rapidità. Una carriera fulminante ma luminosa come poche che si conclude, nel breve spazio di pochi anni, nella solitudine e nell'indifferenza più generale. L'opera di Lecca, nel suo complesso, forma una massa ancora largamente oscura ed impenetrata. Grande amico, grande collega. Il cinema sarà più povero. Buongiorno, signore. Come va? Ma... Un prodotto che grazie alla sua formula bilanciata, una formula concentrata appositamente studiata, che mi consentirà di conoscere nei dettagli l'intera gamma di progetto. Eravamo agli inizi degli anni 90, credo, torno al 92-93. Provai a discutere, nella mia facoltà di storia del cinema, una tesi su Simone Lecca. Simone era da poco scomparso, aveva un po' fatto perdere le sue tracce, ma io avevo avuto modo di apprezzare già il suo lavoro. E con il mio docente di allora, il dottor Werner Mabusing, decidemmo di dedicare a lui proprio una serie di studi che sarebbero appunto finiti nella discussione della mia tesi. Discussione alla quale arrivamo con una incommiabile media del 29, ma nonostante questo, gli altri docenti della commissione rifiutarono il nostro soggetto, perché ancora Simone Lecca era ritenuto un eretico del cinema. noi dovemmo ripiegare a quel punto su un altro regista che almeno poteva in qualche modo approssimare la grandezza cinematografica del Lecca e fui costretto a studiare, a riportare il mio studio su Werner Herzog, invece che su Simone Lecca. Il Lecca, come tutti i grandi pessimisti, era in fondo convinto che la storia non si evolve in modo preciso e lineare e che i fatti e i personaggi che essa tramanda non siano meno casuali delle nuvole nelle quali la nostra immaginazione scorge figure di dinosauri e di cavalli alati. Il suo proverbiale fatalismo si poggiava dunque su un'elementare constatazione filosofica. Tutta la sua opera può essere letta in fondo come un formidabile tentativo di dare un significato ed una giustificazione poetica alla aleatorietà e alla casualità della condizione umana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ultimo capitolo della vicenda umana ed artistica di Simone Lecca è anche quello probabilmente più controverso e doloroso. Nel 2003, a poco più di un anno dalla sua prematura scomparsa, nasce a Cagliari la Fondazione Simone Lecca, istituita dall'artista e polemista duciampiano Lorenzo Pizzanelli per tutelare e proteggere i diritti dell'opera di Lecca. La missione della Fondazione è valorizzare l'opera di Simone Lecca. La Fondazione, anche grazie al sostegno di importanti aziende pubbliche e private, raccoglie da subito dei riscontri molto favorevoli, espandendosi a macchia d'olio e aprendo delle sedi nelle principali città italiane ed europee. L'organismo, il cui intento iniziale era anche quello di promuovere e divulgare con finalità didattiche ed educative il cinema di Simone Lecca, subisce però una formidabile battuta d'arresto sotto la presidenza dell'attore Angelo Zedda, nipote del grande regista cagliaritano e personaggio di dubbia reputazione. La Fondazione viene coinvolta in alcuni scandali finanziari, il suo presidente accusato da più parti di malversazioni e incompetenza. La Fondazione Simone Lecca non merita il fango che le si sta gettando addosso e pertanto sarà nostra intenzione procedere in tutte le opportune sedi a tutela del buon nome della Fondazione, del suo amministratore Angelo Zedda e del maestro. E quindi noi dobbiamo proseguire in queste iniziative e sostenere il quanto più possibile il suo attuale amministratore. Il caso più eclatante è quello balzato agli onori delle cronache proprio in questi giorni e riguardante Angiolina Mameli, giovane avvenente ballerina di Nuoro che ha portato in tribunale la Fondazione sostenendo di essere la figlia di Simone e pretendendo quindi che le vengano riconosciuti i suoi diritti giuridici ed economici. Io me ne frego della Fondazione. Chi sono questi della Fondazione? Gente che vuole speculare alle spalle di mio padre. Io ora vi voglio la mia vita, voglio quello che mi è stato tolto e voglio andare avanti. Secondo la Fondazione Simone Lecca avrebbe avuto effettivamente una figlia di secondo letto a cui fanno riferimento anche alcune sue disposizioni testamentali. ma la ragazza sarebbe morta in seguito ad un grave incidente in circostanze mai del tutto chiarite. Angelina starebbe dunque montando un colossale caso mediatico soltanto per mere motivazioni di esposizione alle luci della rivalta e convenienza personale. Secondo i legali della Mameli la ragazza avrebbe vissuto in un istituto di correzione fino al dodicesimo anno e sarebbe quindi stata affidata alle suore di decimo mannu con la condizione che non le fossero mai rivelati sui veri natali fino al raggiungimento della maggiore età. Intanto in questi giorni è stata riesumata la salma dell'artista cagliaritano per verificare la compatibilità genetica tra il defunto e la ragazza. I risultati delle analisi sono attesi per le prossime settimane. L'ultimo colpo di scena che sembra però scrivere la parola fine sull'intera vicenda è la dura presa di posizione del noto attore brillante Gianmarco Tognazzi da sempre vicino alla famiglia Lecca che pare non avere alcun dubbio su come stiano effettivamente le cose ma che con parole di buonsenso e di grande pacatezza riporta tutta quanta la polemica nei binari della comprensione umana e del rispetto della persona preoccupato soltanto di salvaguardare la memoria e la dignità artistica ed umana del grande regista ed amico. basta come dire guardarlo un attimo negli occhi per capire che è la figlia di Simone Lecca DNA o non DNA che sia per cui a me non mi interessano queste cose tipicamente nostre di polemiche che evidentemente nascondono qualcos'altro quindi io lo dico francamente mi sono schierato con l'animo sensibile umano di una donna meravigliosa perché le persone vanno conosciute nel profondo poi certamente questo non toglie delle piccole manchevolezze e il fatto che comunque un padre avrebbe dovuto occuparsi della figlia in una maniera sicuramente più adeguata e non lasciarla abbandonata in qualche modo a se stesso però era anche giusto tirarla fuori da quel posto orribile indecente dove era stata tenuta una cosa veramente scandalosa che oggi come oggi è insentibile che nel nostro paese avvengano ancora cose di questo genere però questo è tipico io lo posso dire perché ho avuto un padre che forse non è stato un genio come Simone Lecca però anche lui aveva le sue piccole manchevolezze più o meno grandi che abbiamo scoperto anche successivamente alla sua scomparsa ma ecco voglio dire stiamo parlando di Simone Lecca stiamo scherzando stiamo parlando di un genio stiamo parlando di una persona che ha condizionato l'estetica mondiale che ha cambiato i gusti di tutta una generazione a me solo personalmente mi ha dato la spinta perché poi ti dice quanto è influito tuo padre nella tua vita mio padre vogliamo parlare di cosa ha generato in me Simone Lecca stiamo scherzando il punto di riferimento la crescita la grandezza il genio assoluto il genio qui parliamo di genio è possibile che questo paese si dimentichi dei geni che si dimentichi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.